Buonasera, buonasera amici, oggi una sabbiatura che non vi dico, però prima devo dirvi che ascoltavo il virologo Silvestri, un grande virologo italiano che lavora negli Stati Uniti, ebbene anche lui da là dice ormai il virus ha abbandonato l'Italia, tutto a posto, ha smendito tutti quei pseudo virologi del comitato scientifico che dicevano le ondate, questa e quell'altra, addirittura ho sentito delle ipotesi mascherine, mascherina a settembre nelle scuole, sono una vergogna nazionale, ma vi dirò di più, se io vado a casa di una mia parente per un addempimento, per prendere delle cose, vero delle cose, diciamolo sì, non voglio entrare in particolare, vengo accolto all'uscio di casa e mi si dice beh guarda se vuoi entrare per una forma di precauzione togliti le scarpe, togliti le scarpe per mettere alcune pantofone, ma ho detto scusatemi, scusami ma hanno aperto una moschea, forse questa è una moschea o è una casa privata, ho sbagliato a bussare, no, non avevo sbagliato a bussare, è una forma di demenza, non senile, ma scientifica, bene ho detto esci dentro, vai via, se mi devi dare qualcosa me lo dai sull'uscio, io non mi piegherò mai a questa forma, questa forma di cretinaggine che sta pervedendo le menti, sta pervedendo le menti di questi cerebrolesi, e niente di meno poi, leggo su facebook il comitato per la quiete pubblica, è nato un comitato per la quiete pubblica, perché questi delinquenti che sabato sera vanno al bus, passeggiano e fanno casino, ma no, facciamo la quiete pubblica, ma quale quiete pubblica? Dobbiamo vivere, dibelliamoci a questa cretinaggine, lo scandalo della movita, ma per carità, ma quale scandalo? Io ieri sono stato a Cava dei Tisdegni, tanta bella gente, soprattutto giovane, un passeggio composto, era una cretinata quella mascherina da indossare per vessazione delle autorità, ma tantissima gente, si camminava composti, certo, in un corso anche stretto, come vuoi mantenere la distanza in un metro, due metri, tutte cretinate, anche quello, quindi nessun assembramento, non possiamo fermare la vita, soprattutto oggi, adesso che non ci sta niente, 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 perché purtroppo invece, proprio in questo momento in cui non c'è niente, si susseguono le regole sempre più stringenti, i metri, gli assembramenti, le chiusure, le minacce, non si fa così, il paese non va da nessuna parte, quindi finiamolo con questa decrescita felice, i monopattini, le bici, poi andiamo praticamente in spiaggia e in spiaggia sembra che cosa? Sembra che si si debba entrare prima dello stabilimento ad asolarsi, signori miei, nella legione straniera, sì, perché si identifica, identifica, mettiti questo, mettiti quell'altro, il gel, attenzione, quello è il posto 2, non siamo in quella, non siamo in quella, e poi al ristorante ti devono prendere la febbre, poi devi segnare su un foglio i nomi, i cognomi, i numeri di telefono, ma chi, ma chi, ma voi volete distruggere tutto quello peggio di quello che avete fatto, non va così. Ho sentito addirittura, addirittura un altro signore che, avendo fatto una battaglia contro queste mascherine che sono inutili e dannose, sull'uscio di una panetteria, diceva questa commessa, comunque accendo straniera, perché ovviamente era straniera, diceva, no mascherina, no pane, siamo arrivati a questo, no mascherina, no pane. Questo deve essere lo slogan della stupidità per dimostrare a che punto ci siamo ridotti. Allora, state a sentire questi vostri virologi da salotto, che ci dicono che all'aria aperta di questi tempi, in cui c'è un'aria veramente salubre, che fa caldo, si sta bene, si deve essere costretti a farci venire un infarto, pur di accontentare alla mente dei malati, malamenti di alcuni malati. Quindi, altro che plexiglas, la vita deve fluire, deve ricominciare, via i lacci e i laccioli. Vi dovete convincere che non c'è più niente e tutto quello che c'è stato, attenzione, non è stato in quei termini, e non mi riferisco al numero dei morti, alle patologie, a queste cose. No, mi riferisco alle migliaia di morti provocate negli ospedali e per le cure sbagliate. Basta, basta. Alle ore 23 si chiudono i buzz in Campania, perché il signor De Luca dice che si chiudono in quanto, altrimenti i nostri ragazzi si rincrediniscono e si drogano, perché tu chiudi alle 11, così non si drogano e non si desincrediniscono. No, no, assolutamente no, perché anche ieri io sono stato, fino a tarda sera, c'erano tanti ragazzi seduti comunque fuori ai buzz, nei tavolini, fino all'una di notte, alle due di notte. Anzi, è peggio, perché i buzz non vendono droga. La droga si trova casomai per strada e tu metti per strada tanti ragazzi che magari sarebbero stati nei buzz, sarebbero stati in compagnia fra di loro, invece no, in compagnia stanno in mezzo alla strada, lasciati alla criminalità, all'abbandono. Questa è una teoria sbagliata e, ripeto, demenziale di chi l'ha pensata e di chi l'ha attuata. Quindi, certamente non è un qualcosa riferito a una presunta emergenza sanitaria, a un rischio, un rischio, no, non bisogna cosere, il professorino fa, non bisogna cosere, non bisogna cosere nessun rischio, nessun rischio, attenzione, rischio di cosa? Il rischio zero? Il rischio zero non esiste, amici miei. Se volete il rischio zero, bene, cominciate a non uscire più di casa, non prendere più il motorino, non prendere più la macchina, non camminare nemmeno per strada perché può cadere qualcosa da sotto da qualche palazzo, qualche, 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 non so, qualche vaso, qualcosa. Il rischio zero nella vita non esiste, quindi è inutile, è inutile, non prendete niente. Poi, il rischio, il rischio, ma anche, anche adesso, chiudete anche le poste, finestre, perché adesso che siamo, ormai si può dire, quasi in estate, stanno venendo le zanzare, le zanzare, voi capite, le zanzare ci pungono, sono agenti infettivi, non dobbiamo mai farci pungere le zanzare, chiudiamo tutte, disinfettiamo. Allora dobbiamo andare incontro a cosa? A cosa? A questa stupilità, avete mandato il cervello all'ammasso, ci sono persone che non si riconoscono più per la strada, ci sono persone che veramente hanno cambiato il loro modo di vivere, il loro modo di pensare, il loro modo di concepire, hanno sacrificato sull'altare di questa idiosia tutta la loro vita, tutti i loro sacrifici, non conoscono nessuno più, non escono più, soltanto perché magari sopravvivono per uno stipendio o una pensione che hanno. gente che magari erano dei libri professionisti, delle persone brillanti che facevano, andavano, venivano, che non dormivano nemmeno cinque ore a notte, adesso niente, coperti fino agli occhi bardati come lavoratori di Chernobyl, perché? Perché i morti, i morti, i morti, la D'Urso, Barbara D'Urso, i morti, ma non è vero, non è vero questa cosa qua, non è vero. Un signore, ve l'ho detto già l'altra volta, un signore di Ancona diceva all'altro signore, amico suo, che non aveva riconosciuto, perché stava così con gli occhiali, diceva senti Antonio, ma com'è questo fatto? Ma non sei bene, perché cammini così? No, 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 come no, 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 guarda che la situazione sta così, 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 guarda che non è proprio come ci hanno fatto vedere, no, guarda che non è, adesso, adesso la situazione sta bene in Italia. E lui con un filo di voce rispondeva, sì, ma i morti c'è, ma i morti c'è, ma i morti c'è. Questa è la morta, è la morta, ma la morta è civile, psicologica, la morta di un popolo, persone che hanno fatto 40 anni di sacrificio per avere, magari, non so, un piccolo bar, gestire una piccola pizzeria, e che sono, sono lo stesso loro che dicono, no, vogliamo, vogliamo buttare a vento tutto, basta che non viene il virus, hanno fatto credere cose non vedo. Quindi questa decrescita felice non ci deve essere, non ci deve essere, basta, ma voi pensate, uno è bussa alla posta di una casa, di un familiare, che ti dice, che ti dice, togli le scarpe, le disinfettiamo, mettiamo delle pantofole disinfettate per entrare. Vai via, vai via, così via, ma non, 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 veramente, non, non venire più, io ti, 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 ti tolgo proprio, addirittura dal, dal, dall'albero genealogico, ti tolgo, a dire questo, anzi, invece di fare passino avanti, di lanciare messaggi di speranza, che cosa facciamo? Togli di le scarpe. Questa è una vergogna nazionale quello che sta succedendo, addirittura a pensare da qui a settembre, fine settembre, di riprendere le scuole facendo andare i bambini con le mascherine, ma non è che si può pensare che adesso non c'è niente più, che a giugno sarà zero, che a luglio e agosto avremo dimenticato tutto, no, noi pensiamo che a settembre se riprendono le scuole, Dio non voglia, tutti mascherati questi poveri bambini, ma che cosa volete? Ma quale comitato scientifico? Io, se il comitato scientifico, veramente farei una commissione di inchiesta, questi sono personaggi da arrestare, veramente, guardate, io, dati alla mano, dati alla mano, abbiamo un'Europa che è cura e noi non camminiamo nemmeno, eppure, vedete che le europee, i paesi europei, hanno cominciato questa fase, diciamo, epidemiologica, l'hanno iniziata, almeno, che dieci, che quindici giorni dopo, che venti giorni dopo, e invece adesso ci hanno sorpassato di gran lunga, stanno più avanti di noi, nelle aperture di tutte le attività un po', ci hanno sorpassato, perfino gli Stati Uniti che hanno iniziato tre settimane dopo ad avere, diciamo, questa crisi all'inizio, ci hanno superato, e noi che cosa facciamo? Adesso il comitato scientifico decide in che modo si va a scuola, in che modo si va al mare, con le mascherine, le distanze, sette metri, dieci metri quadrati per ombrellone, ma dove vivete? Quando mai voi state nelle vostre casse, siete degli idioti, non capite niente, ma che vi pensate che siamo in queste spiagge, magari romagnole, dove c'è più spazio? Venite in campagna, ci sono delle spiaggette, dei lidi, di poche, di qualche centinaia di metri, sì e no, dove li mettete questi ombrelloni? Ma che cogli stanziamenti? Ma che stiamo scherzando? Che stiamo scherzando? Lava le mani, misura la febbre, mette il microchip dietro, ma che stiamo dicendo? Basta, sono schifato, schifato, veramente, più si va avanti con, come dire, con il niente che esiste più e più i comitati si riuniscono per vedere quali vessazioni devono dare a un popolo che vuole ripartire, che vuole sperare, che vuole godere e viva la movita. Certo, nessuno è incosciente che si comincia a abbracciare, baciare per tutto, ma lasciate vivere la gente, lasciate lavorare, lasciate lavorare, come può lavorare uno che apre un ristorante, che misura la febbre, scheda le persone, il distanziamento, i guanti, la mascherina, mandate, mandate a fare, mandate, andate, 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 andate.